A dieci anni dall'ostenzione del giubileo, la Sacra Sindone tornerà ad essere nuovamente esposta dal 10 aprile al 23 maggio prossimi presso il Duomo di Torino. Sarà per la prima volta visibile al pubblico dopo l'intervento di conservazione cui fu sottoposta nel 2002. In una sorta di gemellaggio ideale, a Terramo fino al 27 marzo, sarà esposta una copia, una riproduzione fotografica della Sindone, che è stata già approntata in Piazza Orsini, al lato del Duomo. Credo che sia un momento molto, molto irversivo e più grande possiamo vedere quello che ha subito il Signore in quel periodo. Quindi questo lenzuolo che ricopre un po' la figura del nostro Signore. Credo che sia importante, importante perché poi sarà fatta con una struttura particolare dove tutti possono salire a vedere questo telo, e anche i disabili possono pregarci e così, una quaresima particolare con un aspetto visivo che rende più particolare questo periodo di quaresima. Per l'occasione sono stati organizzati eventi collaterali che stimoleranno la discussione generale sulla Sindone, che da tradizione rappresenterebbe il lenzuolo citato dai Vangeli con cui fu avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro. Nei prossimi tre martedì, 9, 16 e 25 marzo, presso la Biblioteca Diocesana, si svolgeranno incontri sulla storia della Sindone, i riscontri scientifici, l'aspetto religioso della reliquia. Perché la fede non dipenda dal fatto che è o non è quel lenzuolo che ha avvolto il corpo di Cristo. Se lo è, non è che ci dispiace, ma la fede poi ci sono altri principi, per cui questo, se è quello, ci sta bene. Negarlo è un po' difficile, perché le corrispondenze tra questo lenzuolo e quello di cui i Vangeli ci dà testimonianza certa, sono tante e tali che smendirle sarebbe, se non altro, temerario. In occasione dell'ostenzione della Sagra Sindone si svilupperà il progetto Solidarietà in Viaggio, che consentirà a visitatori stranieri italiani di compiere un tour religioso partendo da Torino, passando per il Vaticano e giungendo alle reliquie abruzzesi legate alla Croce di Cristo, con le Maggio all'Aquila, il Santuario di San Gabriele, quello del Volto Santo di Manoppello e del Miracolo Eucaristico di Lanciano.